Un progetto pilota, l'abbiamo testato in queste due settimane, abbiamo già ritirato 88 passaporti, una ventina appunto due giorni fa, consegnati già 82, quindi vengono ritirati dal comune e vengono consegnati tramite lo sportello del comando della polizia locale, quindi in un paio di giorni. Una rivoluzione per agevolare i cittadini della provincia che sono alle prese con le procedure per ottenere il passaporto, un documento per il quale a livello nazionale da qualche tempo si registra un appesantimento burocratico che comportano allungamento dei tempi necessari al rilascio e che può richiedere lunghe liste d'attesa. La Questura di Vicenza, dopo l'implementazione di personale dedicato e l'estensione degli orari a disposizione, ha avviato una collaborazione con il comune di Arzegnano per ridurre i disagi ai cittadini che vengono da lontano. Non devono venire due volte in Questura per ottenere il rilascio del passaporto, una volta che si sono presentati, hanno presentato la documentazione per la richiesta e sono state rilevate le impronte digitali, una volta che il libretto, il passaporto fisicamente è pronto, non devono venire a ritirarlo qui ma noi lo consegniamo periodicamente agli emissari del comune di Arzegnano che poi provvederanno a consegnarlo in loco ai loro concittadini. Si tratta di un'agevolazione non di poco conto e come dicevo già altri comuni hanno dato la loro adesione e speriamo di poterlo estendere un po' a tutti i comuni del Vicentino. Cerchiamo appunto di collaborare con la Questura per migliorare il servizio che loro offrono, diciamo, nelle procedure di passaporto e noi naturalmente diamo un'agevolazione al cittadino che non deve fare 40 km di strada e perdere magari appunto tempo prezioso, soprattutto nel lavoro.